E maestro, ci racconti, l'abbiamo accennato, questa è una possibilità di questa stagione. Sì, parliamo della bellissima orchestra, li facciamo alzare intanto perché... E l'applauso per questa straordinaria orchestra. Io li ringrazio, noi tutti li ringraziamo. È un progetto straordinario, l'Orchestra Sinfonica delle Scuole Marchigiane. Progetto particolare perché è composto da allievi, personale docente, genitori, insomma, è una collaborazione, una sinergia tra tutti. Sì, sembrava ripetente, invece è uno degli insegnanti. Il nome è L'Eroica, poi io chiedendo a loro ma perché vi chiamate Eroica, allora perché io ho pensato a Beethoven subito. E un po' e un po', io penso anche per l'impresa Eroica, perché insomma loro sono un organico enorme, cento e più mi sembra, suonano la musica classica, amano la musica e veicolano le cose belle. Insomma, la musica è un veicolo potentissimo di beltà e di stare bene, ecco, quindi io intanto vi ringrazio. Grazie, grazie e ben arrivati, come dire a tutti a scuola, e il vostro contributo di bellezza e di arte con la musica.